Sei un professionista o fai parte di un'azienda? La tua attività merita una connessione internet affidabile e performante. La fibra ottica offre nuove e rivoluzionarie opportunità per connettere il tuo business al futuro della digitalizzazione. Infatti le reti FTTH sono super veloci nella trasmissione dei dati. Il download e l'upload dei file, anche di grandi dimensioni, avviene in pochi secondi. Inoltre sono stabili. Non risentono di dispersione di segnale o variazioni atmosferiche. I rischi di arresto sono minimi e gli interventi di assistenza rapidi ed efficaci. Pensa solo a quanto potrebbe migliorare la tua produttività se ogni operazione online fosse fluida e immediata, senza fastidiosi rallentamenti o interruzioni. Un bel risparmio di tempo e risorse, non trovi? Parliamo di prestazioni. Quanto è ultra larga la banda della fibra? La risposta sta in una moltiplicazione. Se la tua impresa utilizza una DSL, passare a fibra significa aumentare di decine di volte la prestazione della tua connessione internet. Potere utilizzare la stessa rete per tutti i dispositivi aziendali e permettere ai tuoi collaboratori di comunicare agilmente e scambiarsi i file in tempo reale. Allo stesso tempo puoi fare videoconferenze in alta definizione con i tuoi clienti, tenendo il video sempre acceso e senza più frasi interrotte a metà. Non è finita qui. La fibra è un fattore abilitante. Ti permette di avere accesso a servizi evoluti, per migliorare l'efficienza e la sicurezza del tuo lavoro e rendere i dati che produci ogni giorno più facilmente accessibili. Qualche esempio? Cloud, hosting e colocation di Aruba sono soluzioni pensate per la trasformazione digitale delle aziende e grazie all'interconnessione del nostro datacenter network con la rete FTTH potrai sfruttarne le prestazioni al 100%. Fibra di Aruba è conveniente. Vai su fibra.aruba.it e verifica se il tuo indirizzo è già coperto.